L'impegno del Ministero è fondamentale, ma come è fondamentale credo queste iniziative che Lini ha fatto oggi con l'idea di guida, quindi è un tema della sicurezza del lavoro, è un tema che ci teniamo un po' tutti e dobbiamo abbassare questi numeri, i numeri che anche oggi abbiamo visto dati anche da Lini sono mille circa morti l'anno, quindi questi sono numeri che io ricordo sempre con il Presidente Bettoni che il nostro impegno è quello di azzerarli. Sarà difficile ma la nostra volontà è questa e quindi già da oggi si vede un'evoluzione anche di Lini nel cambiamento secondo il lavoro che cambia e su questo siamo pronti a fare norme e applicarci e perché no, anche risorse perché la sicurezza viene prima di tutto.